Siete la testimonianza che fare le cose insieme è bello, aiuta a crescere. Così il Vescovo di Chiavari ha detto i rappresentanti dei club service del Tiguglio all'inizio della mensa cattedrale dedicata a loro, aggiungendo che sono l'esempio di come si possono fare tante cose per gli altri e non solo per se stessi. Lo scambio di auguri natalizi con il Vescovo è un momento tradizionale per i club service. Quest'anno, per motivi sanitari, non è stata organizzata la cena degli associati per raccogliere offerte in favore delle mense dei poveri, ma la beneficenza non si è fermata. I fondi, che quest'anno saranno devoluti alla mensa dei cappuccini di Chiavari, sono stati raccolti attraverso bonifici. Faremo come gli altri anni i buoni acquisto e chiederemo delle rate alimentari e supermercati presso i quali faremo i buoni acquisto. Quest'anno manca un pochino la dimensione conviviale, ma la sostanza comunque rimane. L'essenza, che è il servizio e il farsi gli auguri, il conoscere il Vescovo, diciamo rimane. Ecco, certamente la convivialità fa parte, porta più coesione, più amicizia, però penso che riuscire a bypassare anche le difficoltà del Covid, penso che ci unisca altrettanto. Durante l'Omelia, Monsignor Devasini ha ripercorso il Vangelo del giorno, che racconta il viaggio di Maria per fare visita a Elisabetta. La Madonna è sempre l'esempio di fede e affidamento a Dio da seguire, spiega il Vescovo. La fede non è possesso, garanzia, sicurezza. La fede è resa, è consegna, è abbandono. Tutti possono portare in grembo Gesù ogni volta che ascoltano la parola. Tutti possono dare alla luce Gesù ogni volta che la mettono in pratica. Vivendo il Vangelo, il Vangelo vive e il Vangelo è una persona, è Gesù.